And I am telling you I'm not going You're the best mate I'll ever know That's no way I can ever go Pescara che deve darsi una sveglia se vuole aumentare attenzione in aria Ah no Diang Constant che si inserisce in aria dalla sinistra si è trovato solo si è pure in posizione diagonale è uscito Agliardi ha provato a saltarlo non ci è riuscito Constant Alla dentro sul primo palo deviazione attenzione sporbiciata di Mexes e che viene respinta peccato era una buonissima opportunità ancora Milan dai ragazzi dai e andiamo ragazzi Niang cross dentro non ci arriva non ci arriva però Boateng riesce a mettere al centro limite dell'aria sembramento Coné Coné dentro per Gilardino viene fermato da Costan Kevin 2 la vendetta Kevin 2 il migliore in campo Kevin Costan Kevin 2 e andiamo ma questo è un problema che Costan è il migliore in campo del Miro no no è un signor problema se Costan è il migliore in campo del Miro io mi rifiuto di parlare con la gente incompetente con lui con te con te mi rifiuto di parlare perché scusami perché gli esterni sinistri nel nostro campionato italiani e non non ce ne sono ce ne sono pochissimi per la prima attenzione mila anni avanti perché mi distraggo a parlare con te beh non ti arrabbiare eh sei messo ad atterrare per il Milan sulla destra dai batte scambia con Flamini cross in area attenzione Pazzini Pazzini è un campionato 1 in Coppa Italia impazzo 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 oh go 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 sulla palla vagante lì si è girato ha tirato deviazione che la deviazione supera il pallone supera in uscita Gagliardi ed è gol 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 il pazzo la messa 1-0 come godo no 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 nowhere no 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 nowhere living without you attenzione bohach al centro Passini Passini numero gol gol che gol che gol in pazzo che gol in pazzo stoppa la palla salta l'uomo e incrocia ed è gol in pazzo 10 gol del pazzo grazie signor Moratti grazie signor Moratti 10 gol del pazzino del pazzino mio il pazzo ed è gol un numero salta l'uomo e incrocia ed è gol il pazzo la messa 10 gol di campionato gol del Bologna si riapre la partita che frittata là dietro ma no perché Filippo Filippo Mexes autorete di Mexes colpo di testa di Gambiadini sul piede di Mexes destro che colpisce in fila Biati poi rimessa laterale per Bologna in zona d'attacco 48-59-60 è finita è finita è finita è finita è finita è finita 2-1 per il Milan 2-1 per il Milan portiamo a casa i tre punti ed è quello che conta tre punti tre punti tre punti tre punti il pazzo doppietta di del pazzo grazie signor Borac grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti.